L'amministrazione Messina e l'assessore Alessandro Amante hanno incontrato una rappresentanza del comparto artigianale dell'Ula Clay, presieduta da Diego Bonaccorso. Al centro dell'incontro, svoltosi ieri al Palazzo di Città di Mascali, le problematiche degli artigiani mascalesi e la pianificazione di alcune iniziative a favore del settore artigiano. Noi abbiamo voluto l'incontro con gli artigiani come incontro preliminare per cercare di capire quali possono essere le problematiche da affrontare insieme tra il Comune e gli artigiani che operano nel nostro territorio. E' ovvio che l'organizzazione che in quest'area ha avuto sempre maggior visibilità è quella del dottor Bonaccorso. Pertanto abbiamo chiesto e abbiamo realizzato l'incontro, abbiamo parlato di progettualità, di quello che si può fare in un territorio come quello di Mascali per ingentivare e aiutare gli artigiani. Tutto questo è ovvio che io come amministrazione insieme all'assessore Amande abbiamo indicato che è necessario che diventi sinergia con tutto quello che noi stiamo portando avanti per lo sviluppo del territorio. Il primo obiettivo di questa amministrazione è stato sempre dal primo momento quello di realizzare un aumento di posti di lavoro nel territorio e che questo passa attraverso il turismo e il turismo anche attraverso l'artigianato locale. Nell'incontro, il primo fra i tanti che l'amministrazione è in programma di realizzare con l'associazione artigiana di Diego Bonaccorso, è stata attenzionata la frazione marinara di Fondachello, da utilizzare come vetrina per l'esposizione dei prodotti artigianali nel corso delle varie iniziative promosse dall'amministrazione. Si è parlato di Fondachello, di poter utilizzare Fondachello come vetrina per gli artigiani nel momento in cui magari organizziamo qualche attività importante con loro stessi, perché noi abbiamo un grande vantaggio in confronto ad altri comuni dove in un determinato periodo, luglio-agosto, abbiamo già le persone sul luogo dove poter dare l'occasione di usufruire di servizi ma anche di vedere se come gli artigiani o altre attività commerciali possono essere bravi o disponibili o utili alle loro esigenze. Grazie a tutti.